Sono Daniele Ippolito, un'arpista cantante originaria di San Moroforte. In molti mi hanno chiesto il motivo per il quale ho abbracciato la paesologia. È di una semplicità incredibile. La frase che mi ha colpito è prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro. Mi sono resa conto di avere un angolo sacro nel mio paese, che è questa splendida cappellina scavata nel tufo. È la cappellina di Sant'Antonio. È un luogo al quale sono estremamente affezionata perché quando ero bambina ci venivo con mia nonna e poi proseguivo il mio cammino cantando da quella parte per raggiungere la fontana del Vognolo. Diciamo che la mia passione per il canto tradizionale che poi è diventata mio malgrado un lavoro è nata in questi luoghi. Per me la paesologia è questo. Rendere sacro un luogo e cercare di portarselo per sempre fino a stravolgere completamente la propria vita. Ciao!